Domani mattina il Consiglio Generale della CIS Palermo-Trapani su temi importanti, su alcune vertenze che riguardano le città di Palermo e Trapani. Sarà un momento di riflessione complessiva sul stato dell'arte delle nostre città. Si farà una grande riflessione sul tema della sicurezza, anche in occasione della Settimana Europea della Sicurezza che è partita ieri. Si parlerà molto di come ci vogliamo organizzare, di come svolgeremo i nostri congressi, perché la CIS si prepara a questa tornata congressuale attraverso il coinvolgimento di tante persone, di tanti giovani, di tante donne, di tanti immigrati. Sarà un Consiglio Generale che metterà anche il dito nella piaga, proverà a capire come il PNRR si declina nelle nostre azioni e per quanto riguarda il Comune di Palermo sarà anche l'occasione per capire bene quali sono gli effetti di tutti gli accadimenti che si stanno venendo a determinare. in questi giorni. La principale preoccupazione del sindacato è che bisogna creare posti di lavoro veri. Il PNRR potrebbe essere un'ottima occasione per far questo. Oggi purtroppo non intravediamo possibilità, non intravediamo progetti esecutivi, non intravediamo un filo conduttore che ci faccia stare tranquilli. Questo è un tema che abbiamo la necessità di affrontare, perché o lo affrontiamo adesso o dopo sarà troppo tardi. Sarà soltanto un debito che lasceremo alle future generazioni, non ce lo possiamo permettere e questo è l'impegno che noi dobbiamo prenderci.